E ben ragazzi ragazzi e ragazzi sono Dracula e bentornati in questo nuovo video Oggi continueremo la nostra serie di GTA Grand Theft Auto 5 V come cacchi stigia E iniziamo Oh no 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 Mi salta la parte del caricamento Bene ragazzi Allora Ieri non c'è stato Clash Royale Perché avevo tanti impegni Quindi quando avrò tanti impegni E non usciranno alcune serie non scandalizzatevi Perché tanto Non è che È la vostra vita Per alcuni è la sua vita Però Allora ragazzi Mi pongo una proposta Se questo video Arriva Ai 10 like Ai 10 o ai 5 Uscirà un vlog In cui Aspettate Perché una fan su Instagram mi ha chiesto Ciao Dracula Puoi fare un video dove cucini una cena E io ho detto Eh va bene Faccio un video in cui cucino una cena Quindi ci sarà un vlog dove cucino una cena Forse arrivo a 10 like Allora ragazzi Eravamo al tennista sessuale No Doc Hey Michael I'm looking through my appointment book And I don't see your name Yeah well I'm more of a walk in guy Doc You know that Walk ins are more expensive But I'm always happy to accommodate Sure you'll accommodate me As long as I got money in my pocket right I'm in a bad way Doc I might come by soon Va bene allora Eravamo con Lester l'altra volta Io non ho salvato perché Allora io ho salvato sì però il gioco prende determinati punti Quindi ho ancora la missione di Lester Cioè tutto il dialogo dell'altra volta Quindi io mi salto la parte del dialogo E ci eravamo rimasti E Ci rivediamo quando saremo al punto dove ci eravamo fermati l'altra volta Quindi a dopo Bene ragazzi Dobbiamo raggiungere i negozi suburban A Vinewood Ci eravamo fermati qui Allora ok Andiamo Salto la parte E noi ci vediamo dopo Ok ragazzi Ci siamo Scusi non volevo Lady Scusi Come Anche C'erano Lanche Lost la base Hanno Lo缎 Il C'erano Lo Liebe La Oh bello! Credo che segnerò questo A parte la dimmita Ah i pantaloncini cargoli avevo già Ah figo figo Ok andiamo a UFITRI LIFE INVADER Voi troppo Oh bello Un'epoca Un'epoca Ma si Quella Una Un'epoca 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 ma questa cosa va veloce ok gli uffici dove sono ah perfetto non è stata una buona idea ragazzi no non è stata una buona idea no 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 magari così è meglio aggiungi l'ingresso sul retro bene devo fare presto che poi devo andare a baseball ma non preoccupatevi il vlog l'ho già registrato ieri ok P.M.'s pushin' for more functionality, but we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully-placed update a year later. Oh, you know it's... Yeah, well, you gotta do what you gotta do. I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. So, my union allocated smoke brick's about up, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so. I, I, IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, you gotta put it in a ticket. Ah, no. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I need. Yoga zone. They're just yoga here. I'm totally becoming a tech evangelist with the big boys' best. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the being back. Watch your right out. Oh, um, I'm gonna take it, um, share. I have a terrible back. oh mio dio ma è il piano di virus questo io ho fatto il ragazzo nel senso a pro poi di queste cose non mi sapevo non mi sapevo il sacco st cerchiamo su sta roba I need to write some product bro, I'm feeling the itch and now we scan. There it goes this place is fueled by Java bro and that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on. Oddio ma è malato. Ma che cazzo? Oddio ma non parlo io. Ma non mettiamo il prototipo. Si va? Ok non ti esplode in mano eh? Ok bene. Lo zaino è dimenticato lo zaino. Vabbè. Ma che cazzo? Non do it without the little guy. Bye now. Sit, 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 sit. Foot bag, dig fast. Ow. Come on, you're gonna have to learn the foot bag if you want to get a job here, ok? Follow me. Ok. Come on. Oh my god. 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 Hey Michael, hold on, hold on. Dumbed, I dumbed ya! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. T-Bag time my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah sorry. The phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes. None of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two hour plot in which the hero looks good and defeats evil. And whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it. And then we'll talk. Where are you guys? Oh, I'm watching Fame or Shame. No! 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 Ok, deve tirare fuori il prototipo ragazzi. Eccolo qua. Sì? Oddio! Oddio! Ma lei... Lascia... Mio Dio ma gli ha fatto esplodere la nuca! Non è normale sta cosa eh! Mio Dio ragazzi! Beh ragazzi... Cavoli! Beh ragazzi... Direi che per questo episodio di GTA è tutto! Spero che vi sia piaciuto! Se sì... Commentate! Lasciate mi piace! Iscrivetevi e condividete ovunque voi vogliate! Spero che questo video vi sia piaciuto! Lasciate like! Arriviamo a 10 o 5 like! E uscirà il vlog! E qui da Dracula è tutto! Oh! Oh! Questa è vita! Prrrr! 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 Prrrr!